Però perché questa è entrata te nel loop, così? Non so. Perché tutto principalmente scaturisce un po' dal discorso che hai fatto l'altra volta, no? E quindi diciamo questa è tutta una cosa di questione di testa. Solo non ti devi autosabotare, è quella la cosa. Non mi viene più ansia, cioè mi imbarazzo, non riesco a... Ma ti dico la verità, cioè io pure mi imbarazzo. Bisogna essere magari un po' più spavali e tutto, però è una cosa che acquisisci. Penso, perché manco io lo sono, capito? Però a te la cosa che ti dà fastidio è che prima non lo eri e lo stai diventando. Cioè, prima non ci facevo caso, capite? Era una puntata, cioè, avevo ansia ma non ne avevo dello suo tempo, capito? Più vado avanti più mi viene ansia. Perché mi viene ansia? Perché non mi sblocco, capito? Capendo che non ho tempo, quindi non sbloccarmi tutto. Grazie. 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 Grazie.